bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuber e ragazzi oggi sono con voi per parlarvi di una roba molto molto particolare su fortnite perché ragazzi voi lo sapete benissimo come lo so io qualche giorno fa è arrivata la tanto attesa patch 3.4.0 quella che ha portato il nuovo missile teleguidato ha reintrodotto la bomba ballerina ha inserito nuove skin nuovi balli e tanti altri miglioramenti per quanto riguarda il gameplay però ragazzi c'è anche una cosa che è stata inserita in fortnite che molti giocatori si sono accorti essere un pochettino strana diciamo non proprio normale ecco e ci sono veramente un sacco di teorie su quello che potrebbe accadere adesso ragazzi io vi farò vedere andando nella montagna dei telescopi che rimane qua che cosa riusciamo a vedere da quella postazione ragazzi so che molti di voi l'avranno magari già visto in qualche video americano inglese di youtuber beh ragazzi è proprio così è stata introdotta su fortnite ragazzi si è vista nel cielo un meteorite e non è proprio piccolino ragazzi non riusciamo a capire ci sono veramente un sacco di persone che si stanno chiedendo ma questo meteorite che è stato introdotto su fortnite può essere un pesce d'aprile nel senso deve essere qualcosa che è capitato proprio infatti ragazzi guardate adesso noi atterriamo qua i telescopi come vedete già ci sono dei telescopi il che è abbastanza strano diciamo non tanto perché ci sono i telescopi quanto perché quello che stiamo per vedere è proprio una cosa inerente allo spazio se noi ci alziamo guardatela ragazzi guardala lì guardala lì quella ragazzi come vedete non c'è nient'altro nel cielo raga guardate cielo completamente pulito tutto a posto tutto a posto ma ragazzi vicino al sole c'è un meteorite che sta veramente cadendo sulla mappa di fortnite e tra l'altro ragazzi questo meteorite man mano che passano i giorni è sempre più grande quindi non è proprio una bagianata è qualcosa che potrebbe veramente succedere su fortnite se si pensava che fino a qualche giorno fa era semplicemente un easter egg cioè magari oppure un pesce di aprile giusto così perché tanto questo mica aspetta non killarmi no aspetta non killarmi non killarmi non killarmi no che infame che infame stavo guardando il meteorite vabbè l'avete visto ragazzi se si pensava che era un pesce d'aprile o un easter egg in realtà oggi che è il 2 aprile non è ancora stato tolto quindi ragazzi ci sono un sacco di teorie che vanno appunto a parlare di questo meteorite potrebbe davvero schiantarsi sulla torre dell'orologio di pinnacoli pendenti andrà davvero a modificare ragazzi il lago che c'è adesso su fortnite e lo prosciugherà rendendolo un gran canyon boh noi non lo sappiamo ragazzi io però questo ci tenevo tantissimo a farvelo vedere soprattutto per i giocatori che ancora non hanno avuto modo di dargli un'occhiata beh ragazzi questo era proprio un leaks come direbbe il nostro amico hammer su fortnite io spero ragazzi che il video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo stasera in live buona continuazione ciao